Per quanto riguarda poi il tema della cittadinanza, quasi l'80% di loro dice, afferma che averla avuta avrebbe semplificato la loro vita, ma che comunque questa non basta a sentirsi italiani appunto per il contesto collettivo in cui sono posti. In tal senso il tema della cittadinanza italiana non è un tema propagandistico perché poi impatta nella scelta di vita del singolo in modo molto importante sulla scelta del lavoro, sulla percezione di sé, ma anche sul luogo dove vivere. In tal senso la cittadinanza, il tema della cittadinanza, della sua regolazione, si pone non solo come un tema giuridico, ma come un tema di riconoscimento di sé, come un tema di dignità e come un tema di libertà. Infatti l'82% di loro considera l'Italia come un paese razzista. Grazie.